La domenica di Pasqua a Terrasini si svolge la festa degli schietti. La festa rappresenta una prova di forza e di abilità per i celibi del paese, che in dialetto si dicono appunto schietti. Alla vigilia di Pasqua i partecipanti alla gara si recano nelle campagne circostanti a tagliare un albero di arancio scelto in precedenza. Nel giorno di Pasqua gli alberi addobbati con nastri policromi e oggetti vari vengono portati davanti alla chiesa e benedetti. La gara poi consiste nel sostenere per il maggior tempo possibile sul palmo della mano l'albero. Segue un banchetto collettivo a base di carne di montone.